benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere come emulare sul proprio dispositivo android il siga master system e il siga mega drive per prima cosa bisogna andare sul play store e scaricare l'applicazione gemplus droid che trovate comunque in descrizione lo andiamo a installare vedete che occupa pochissimo 1.64 megabyte una volta fatto questo andiamo ad aprirla ci dà il benvenuto ci spiega qualcosina noi facciamo ready down e se vogliamo modificare l'impostazione setting possiamo disattivare attivare l'autosalvataggio possiamo abilitare o disabilitare la velocità nel senso possiamo andare più veloce il gioco è uguale il mandarlo indietro abilitare l'audio mettere il flame scegliere tutti i vari aspetti configurare il nostro joystick scegliere dove andare a cercare la rom qui possiamo riassumere il gioco uscire e caricare la rom io adesso ho scaricato la rom vi farò vedere come trovarle tutto vi faccio vedere come funziona ad esempio wonder boy a allora per trovare le rom bisogna andare su google e cercare rom sms ecco abbiamo i vari siti emu paradise rom hustler cool room dove scaricarle per scaricarle è molto semplice possiamo scegliere o quelle più scaricate o per lettera o guardare tutti i titoli ad esempio vedete qua ci sono quelle più scaricate andiamo a schiacciare golden axe e qua possiamo leggere la descrizione facendo uno che ci spiega e fa vedere le immagini e per scaricarlo dobbiamo andare semplici amount su download links e qua puoi schiacciare ci scaricherà una rom in formato zip possiamo tenerlo nella cartella download o fare una cartellina a parte dove andiamo a pescarla ogni volta che carichiamo un gioco le rom occupano pochissimo infatti occupano pochissimi kbps vedete 148 kbps questo è tutto se vi è piaciuto stato utile questo video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale un saluto a tutti